TorinoGi.it, a caccia di freschezza qui a Pepero, 69esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e siamo da Agri Sapori, quindi il peperone incontra il gelato, lo sapevamo già, ma guardate l'originalità di quest'anno, ce la spiega Nadia? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, abbiamo il peperone rosso, un gelato lavorato con latte, accompagnato da un filetto di acciuga e peperone giallo, che è un sorbetto, quindi lavorato all'acqua, condito con un filo di olio extravergine a crudo, servito così. Et voilà, questo è il nostro gelato al peperone, la ricetta è bilanciata e sa proprio di peperone, top. Loro sono molto bravi, ma soprattutto questo è un gelato gastronomico, quindi vale la pena inserirlo durante il menù.